...che caratterizzano nella presenza del minore, in questa possibilità di un eventuale intervento che altrimenti sarebbero stati, teoricamente, dalla legge studiata al procuratore, per il ministero di essere sviluppato, si pensi solo a quello che sta a dire in un'unione non accompagnata che arrivano nelle nostre zone e per i quali la classe è quella di mettere in una casa famiglia con la quale poi ciò che so se scompargono, nel momento in cui viene individuato il minore che è venuto e se deve riguardare. Quindi grazie ancora di nuovo a tutti coloro che hanno collaborato in questa iniziativa e lavorato nella situazione. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. gli interventi nei commenti che mi hanno ricevuto. Sono risultati, signor Atterrador, la ritenuta amministrativa e personale di Procedo, il dottor Andrea Milano, a cui va sicuramente la ragione della possibilità di questa esperienza che è stata vissuta con un grande domenica e che conseguente ai pensionamenti, all'ormai unissimo gruppo del turnore, in particolare gli uffici, con l'anno precedente di oggi, e la commissione delle cittadinazioni giudiziarie, un altro che era accorpato, le sezioni di casa dei disegni del caso Sanseverino, che è prima partenuta con l'anno di Salerno, i meccanismi, o diciamo, che in un certo senso sono stati, sia pure per un limitato lassù di tempo, dei rimedi proprio per questa situazione problematica a cui prima accettavamo. E quindi in tale ottica devono essere letti il miglioramento e la possibilità di una soluzione, di realizzare il proprio modo che è il Consiglio dell'Ordine 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 dell'Ordine. Ma va anche di voi.